Piove su Napoli e sulla Coppa Davis. È stata annullata la cerimonia d'apertura d'Italia Gran Bretagna ed è cominciato con circa tre ore di ritardo il primo singolare in programma tra il numero uno azzurro Fabio Fognini ed il secondo singolarista inglese James Ward. Tempo permettendo, il numero uno britannico Andy Murray, ieri alle prese con un lieve attacco influenzale, sarà regolarmente in campo nel secondo singolare di giornata che lo vede opposto ad Andreas Seppi. Importante che si inizi, poi sul tempo non si può fare nulla, fa parte la vita, ma il contesto è straordinario e sarà comunque una grande Coppa Davis e recupereremo anche queste ore di pioggia verso l'inizio della settimana prossima, quindi è una bella cosa. Ci hanno fatti complimenti gli inglesi, hanno detto Napoli dovrebbe far sempre questo. Ci dobbiamo convincere che col turismo e la bellezza della nostra città si può andare molto lontano e noi siamo fieri di essere riusciti a organizzare una cosa così bella e speriamo che sia un'iniziativa sportiva di successo e che l'Italia vada bene.